Più del 40% degli attuali 58 ricoveri di terapia intensiva delle Marche gravano su Marche Nord e sull'ospedale San Salvatore di Pesaro. Cifre simili per i ricoveri in terapia simintensiva, cifre molto alte anche nei ricoveri in area medica. Tanto troppo il carico della pandemia su Pesaro, che si fa carico anche delle cure con gli anticorpi monoclonali e che convive con una perdurante carenza d'organico. Un aggravio che rischia di penalizzare fortemente la cura delle altre patologie. Allora la politica si mobilita per ribilanciare le competenze. Lo invoca il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, lo chiedono anche i consiglieri regionali della provincia. Da Marta Ruggeri ad Andrea Biancani, che si domanda come mai sia ancora chiuso il Covid Hospital di Civitanova. Siamo in un momento in cui i casi stanno aumentando in maniera esponenziale e purtroppo la provincia di Pesaro, in particolar modo l'ospedale Marche Nord di Pesaro, ha circa il 50% delle persone ricoverate in terapia intensiva, cioè a livello regionale. Quindi la gran parte delle persone che si ammalano di Covid e hanno bisogno di una terapia intensiva, la metà vengono portate a Pesaro. Sono altissimi anche i numeri delle terapie subintensive, ma inoltre per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture territoriali, mi riferisco in particolar modo a Galantara, a Macerata Feltra, i numeri dei ricoveri, cioè dei posti letto nella provincia di Pesaro Rubino, sono circa il 65% a livello regionale. Quindi una provincia che sta pagando un prezzo molto alto, un prezzo dal punto di vista che questi pazienti Covid hanno bisogno di un'assistenza molto elevata, cioè hanno bisogno di molti medici, molti infermieri e quindi si vanno a chiudere, quindi non vengono garantiti tutti quei servizi, dalle operazioni, servizi ambulatoriali a tutte le varie prestazioni e servizi che sia il territorio ma anche i vari ospedali possono mettere a disposizione delle persone che hanno comunque anche altre malattie. Quindi una situazione grave alla quale occorre sicuramente prendere provvedimenti, in primis modificando quello che era un piano pandemico che era stato pensato nella prima fase della pandemia, dove la provincia di Pesaro era comunque la provincia che aveva il maggior numero di casi, ma oggi i casi nella provincia di Pesaro non sono così alti e quindi noi riteniamo che sia necessario riaprire il Covid Hospital Digi Vitanova anche perché lì andrebbero i medici da tutte le province, da tutti gli ospedali, mentre continuando a tenere questi posti letto a Pesaro vengono utilizzati solamente i medici presenti nel nostro territorio.